Ciao ragazzi, bentornati di nuovo sul mio canale, come state? Spero che state bene, io sto molto molto bene, adesso mi sto un po' riprendendo, sto cercando di rilassarmi dopo la laurea e tutto, e sono davvero molto molto felice, ringrazio davvero col cuore tutte le persone che sono venute alla mia festa, che mi sono state vicine, per i regali, sono stata davvero molto molto felice. E poi, soprattutto, guardate, mi raccomando, il video precedente dove c'è il Get Ready With Me del mio outfit e del mio make-up per la festa, e mi raccomando, seguitemi sui social, su Instagram, su Snapchat e specialmente su Instagram dove vedrete molte foto della mia laurea, se siete curiosi, perché vi posterò foto della laurea a stufo, quindi mi raccomando, io ve l'ho già detto, perciò siete già preparati, diciamo. Oggi vi presento un po' le ultime novità che ho acquistato, un po' di più per quanto riguarda il make-up e due cose fashion, di moda e basta. Diciamo, non è stato un vero e proprio shopping, ecco, è stato, diciamo, degli acquisti che ho accumulato in questo periodo e ve li ho accumulati tutti per questo video e ho deciso di farveli vedere, appunto. Quindi, partiamo con il video. Allora, per prima cosa, diciamo che moda è... sì, vabbè, partiamo dalla moda. E Zara, e ho comprato da Zara perché ci sono nei negozi degli sconti di metà stagione, perciò ho approfittato 40-50% e sono andata ad Azzara e ho visto questo 50% e mi si è aperto un mondo, perciò quelle due cose che ho visto me le sono prese al volo. E ho preso questo pantalone qui, ha vita abbastanza alta e dietro ha l'elastico, ha due taschine, è, diciamo, arriva fino alla caviglia, molto molto bello. Diciamo, è uno di quei pantaloni che si presta molto per le occasioni magari un po' più sofisticate, tra virgolette, passatemi il termine, e però allo stesso tempo davvero molto comodo. Quindi, diciamo che è l'ideale. Io l'ho pagato 12,99 e costava 25,95. Ecco qui, ho preso la M e mi sta un po' grande in vita, però alla fine non fa niente. Anche una cinta, perché posso mettere una cinta perché vedo che ci sono i passanti, perciò va benissimo. Quindi questo, per quelle uscite, sabato sere, un po' relax così, un paio di pump, questi e via, siamo già perfette. E anche con le scarpe basse, perché no, sarà... penso che ci sta davvero bene. Poi, passiamo al must di questo video, che secondo me è il must. Io l'ho visto a 30 euro, considerate che i chiodi da Zara costano 50-60 euro, quelli disegnati, con le scritte, diciamo quelli un po' più particolari. Io, in un precedente video, tra i miei primi video, vi avevo mostrato l'altro chiodo che avevo preso da Zara, e era quello rosa a pastello, che era uscito l'anno scorso. L'avevo preso a luglio, giugno, luglio, una cosa del genere. E l'avevo pagato 50 euro, questo qui invece l'ho pagato 30. È bellissimo, è bellissimo. Dietro è fatto così, ha questo occhio, queste scritte, molto panchettone, diciamo, però è bellissimo. Cioè, l'adoro. Quando l'ho visto, ho detto, no, questo è mio, così si taglia, cioè lo prendo. Poi per 30 euro costava 60 euro, quindi è... è fighissimo. È lo stesso modello, è proprio identico a quello rosa. L'unica cosa che cambia, posso dirvi, che è qui le cerniere, che ha questo dettaglio in più, ma niente di che, vabbè, ovvio, a parte i disegni, è lo stesso modello. E lo adoro, è bellissimo, è semplicemente bello. Quindi, questo è stato, diciamo, il piccolo shopping, tra virgolette, della moda. E... ora passiamo al make-up. Ho preso tutto da Kiko. Niente... negli altri negozi, no. Tutto da Kiko. E... allora, partiamo da questo... di Kiko, che l'ho preso con gli sconti. È un Color Click Lipstick. È questo qui. Non so se vedete, se riuscite a leggere. E ho preso il 02. E si presenta in questo modo. E niente, è un arancio bellissimo, che vi devo dire. Cioè, penso che per questa primavera-estate userò molto l'arancio. Eh... ho visto anche che molte altre case cosmetiche l'hanno proposto. E quindi, penso che per quanto riguarda i rossetti, l'arancio sarà un colore molto... molto in voga. E... è quelli che si aprono così, con il click. Infatti, Color Click, ci sarà un motivo. E niente. Questo, ragazzi. Ve l'ho già swatchato su Instagram Story. Per chi non mi seguisse, mi raccomando, seguitemi, eh. Che così vedete tutte le novità. Se no, non sarete aggiornate come tutte le altre. Quindi, mi raccomando, seguitemi. Poi, passiamo a un mascara. Eh... io ho preso Luxurious Lashes Maxi Brush Mascara. Che è questo qui. Adesso ve lo swatcho. Ve lo swatcho. Ve lo apro. Perché non vi swatcherò il mascara. Eh... Allora, è... Questo qui. Non so come girarvelo. Ecco. Allora, sto guardando il dritto. Questo oro. Ed è quello che ha il pennellino in questo modo. È bello. Fa delle ciglia veramente voluminose. Eh... Io lo utilizzo abbastanza. Anche se io preferisco i mascara quelli con le sedole sintetiche più... Più fini, diciamo. Non questo. Quello della L'Oreal che io uso solitamente, diciamo... Ha la spazzolina ideale per me. Dopo, certo, ogni tanto applico anche questo dopo l'altro scovolino e... È bellissimo. Questo lo usa soprattutto mia mamma. Che a lei non piace i scovolini come il mio. Non so perché, ma... Secondo me sono i top, però... Non fa niente. Ognuno i suoi gusti. Poi, dopodiché, mi sono presa due matite della Kiko per le labbra che... Adoro. Soprattutto per il prezzo, perché due euro e qualcosa mi sembra che costino. E ho preso questi due colori qui... Non so se li riuscite a vedere. Non so se li riuscite a vedere. Un vinaccio... Un vinaccio scuro e un altro rosino nude. Sono molto belli. Allora, quello più scuro è il 517. Ve lo lascio anche qui. E quello chiaro è il 503. Io li adoro, sono bellissimi. Poi ho pensato, perché ho visto che insieme stanno anche molto bene, di fare una sorta di ombre alle labbra. Quindi ai lati lo scuro e poi al centro per dare un po' di luce, un po' di volume, diciamo. Appunto per creare questo effetto ombre, applicare questo qui più chiaro. Che davvero penso che staranno da Dio insieme. E vi farò magari un video dove vi proporrò queste labbra ombre, in modo che così riusciremo a crearlo insieme. L'ultima cosa che ho preso è un rossetto, sempre, i Smart Fusion Lipstick. Questi qui. Allora, questi qui. Non so se leggete, non mi metto a fuoco. Vabbè, ho preso il 436. Ed è esattamente... Allora, il packaging è molto carino, molto minimal. Mi piace molto questi nuovi qui che ha fatto la Kiko. A metà, diciamo, in plastica lucida, se vogliamo dire così. E l'altro pezzo, che sarebbe il tappino, è opaco. Il colore è questo qui. È un... Vabbè, ve li svuoccio. È un marroncino sul grigiastro, rimane poi sulle labbra. Io davvero molto, molto bello. Mi piace molto. Poi non è di quelli matte, quindi... Diciamo, ha una texture molto cremosa sulle labbra. E, ovvio, rimane un po' quell'ucido dei soliti rossetti cremosi, ovviamente. Non essendo matte. Lo stesso per questo qui, arancione. Non è un colore matte, ma davvero super arancione. Guardate qui. È bellissimo. Cioè, lo duro. Penso che, soprattutto, in estate, con la bronzatura, anche un trucco molto glow, molto leggero sugli occhi. Giusto un po' di mascara. Quell'highlighter, quell'illuminante, quell'effetto glow sulla pelle. E questo, secondo me, sta da Dio. È il top. Sarà uno dei make-up che proporrò molto per quest'estate, almeno per quanto vi riguarda. E dopo, le matite ve le svuoccio, comunque. Questa è la 117. Questa qui. 117. E poi la 503. che è questo rosino nude qui. Molto carino. Mi piace. Diciamo che sono molto soddisfatta dei miei quattro colori. Li trovo davvero bellissimi, davvero di tendenza. Nonostante, soprattutto, l'arancione era in sconto. Poi vi consiglio le matite, perché hanno davvero una tenuta niente male. E poi costano 2,95 euro. Non seccano le labbra, perché hanno comunque una textura abbastanza morbida. E ve le consiglio. Poi, questo rossetto qui, invece, questo qui marroncino, che adesso... Ah, l'ho rimesso dentro la scatola. Vabbè, questo, vi ripeto, è il 436. Non so se riuscite a vedere, no? Vabbè. Cos'è che volevo dirvi? Ah, questo costa, mi pare, 3 qualcosa o 4 qualcosa. Ma comunque, pure questo non costa tanto. Ci sono davvero moltissimi colori. E ve li consiglio, perché l'ho già indossati e mi piacciono un sacco. Poi questo ci ho pure mangiato. E sì, è andato via, ovvio, come i rossetti normali. Ma non così tanto. Diciamo che, anche se non dai quel ritocco, almeno a me, è rimasto molto, molto bene. L'effetto era un po' grunge. Niente male. E niente, ragazzi. Questo, diciamo, è stato il mio mini, mini haul per quanto riguarda make-up e moda. Spero che vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di iscrivermi al mio canale in modo da farmi davvero moltissimo piacere e da rimanere voi aggiornati continuamente sugli ultimi video che posterò. Vi mando un grandissimo bacio. Sono molto felice degli iscritti che state aumentando sempre di più un po' alla volta. Vi saluto, vi dico alla prossima e vi mando un bacio. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao. 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 Grazie a tutti